Salve Salvini amici Cooperiannini, se vi stavate addormentando spero di avervi svegliato e di avere la vostra attenzione adesso Vabbè niente, bentornati in questo nuovissimo video Prima di iniziare io vi chiedo un favore enorme ovvero quello di tornare sul canale Nella parte sopra dove c'è home video playlist eccetera c'è anche la zona community Ho fatto un post molto importante che vi chiedo di leggere riguardante la vecchia sponsorizzazione E quindi niente, è finito tutto, godetevi il video Quando avete di nuovo un po' di... uh da dietro Alle spalle, alle spalle, si, grano L'ho visto, ma fatto, cristo santo Ma non ci credo Ah, M62 Scopero mi devo curare, sto perdendo sangue, mi attacco un attimo qui Ok Vaffanculo, che sostanza Era a destra comunque Eh, sto guardando se... Mi ha fatto malissimo Head ice Eccolo Fatto Bravo Prince, tu che sei così sentito? Che zaino hai? È un beta Eh, piglami... le mie cose E buttami da un'occhiata Il nome com'era? Voodoo... boss Ok Ok, poi guardo Hai capito Prince? Ok Metti tutto dentro il beta La sneak possibilmente Ma c'è, questo Almeno dalla distanza sembrava un nudo con l'arma No, no, era girato O ha droppato le sue cose A parte l'arma Le cose del tipo? Com'era questo? Perché... C'è... È proprio nudo È l'arma Ah, sì? O render... O non mi renderizza O ha droppato le sue cose È sulla sinistra Fammi le live Prince Ma anche questi Sono sopra di noi Ti ho preso questo Prince, hai preso la sneak? Sì, guardo Bella, bella Ma metti dentro il pilgrim Eh, il... cosa Il tri-zip Così ti fai prima a buttarlo Così non ti pesa Oh, aspetta, aspetta, aspetta Gente da sotto Sei sicuro che è sotto? Sì Sì No, ora... aspetta Io lo tengo sopra Sopra, è sopra Io lo tengo sopra Te ti hanno sotto Prima a far la cazzata Proviamo Aspetta, fammi dare un occhio a me Con quello da distanza Vai, vai Ok, inizia a uscire Allargarti sulla destra Sono fuori? Arrivo Ci giro da dietro Vedo da dietro qui No, passiamo da fuori Rimaniamo fuori Ok, arrivo Io sono sicuro che quello che... Ma come si chiamava quello che ti ha ucciso, Alba? Eh... Voodoo Boss Era lui? Non lo so, ora si controlla Per non ci sia nessuna L'autostrada Scusami, Cooper Dov'è? No Vai più da qualche altra parte Dai, verso la cosa Verso l'autostrada Qui? No, no, qua Passano sempre Qua? Eh, vabbè, dai Vai, buttate Lì non ce n'ho da lo vedo Bravo, bella, grazie Prego Arrivo tra poco Devo ricordarmi dove era il cadavere Non era qua fuori? Sì Mi è libero Eccolo qua Ehm... Voodoo, eccolo qua S-V-D Ah, non è tra centi della... Non so abbastanza Sì Appena vuoi dammi un po' di copertura che mi spano un CMS Provoco Aspetta che... Scav Ok, qual'era uno scav? Ma' 100% Attraveriamoci dentro di qua All'ora Ah... Grazie. Vai, ti puoi cucire. Grazie. Vedo un qualcosa, uno scavato. Fatto, ci sono. Ok, vediamo dove ci attende la morte. Sono sulle scalibili, eh? Uh-huh. Ok. Pagano, pagano. Cero? Si. Merti, forse. Ok, lì c'è uno scavo morto. Lì c'è anche un bear a terra, dritto. Ok. Oh, davanti a te, davanti a te Cooper, l'hai visto? No. Sulla destra o sinistra? Eh, ok, sulla sinistra l'ho visto, è uno scav. Anzi, non saprei che cosa fosse. L'hai ucciso? Si. Non sembrava uno scavere, ma camminava troppo sui dito. Sulla destra. Vogliamo salire da dietro come facciamo l'altra volta da davanti. Aspetta, diamo un check a questo qua Uh-huh Allora, forse è lui Vedere, sì Sì, era uno scav normale Ok Ma che non aveva quel bastardo che ha ucciso Alba? Svd Ah, ecco perché è morto Eh, poi con i colpi buoni Eh, sì, là Quello è micidiale Quelli con la fascetta rossa Sono una bomba Oh, è più di là Oh, è più di là C'è uno a red light A tech light L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Ok, sono due Ok Forse mi ha visto Ok, sono nel negozio sulla sinistra Ok Eccolo là Quelli quali sento? Questi vengono qui ora L'ho ucciso L'ho ucciso uno Sicuro? Conferimi che erano due Sì, sì, sì Ok Amo Che c'è? Vai, quanto è pronto? Va bene Tra poco scendo Fammi un bel piatto Che? Allora? Fa la cacca di segrette Ciao Eh Dio santo Dio santo non ti videnza E' la lotta che c'hai nervi più duri Sì Ma se voi posso anche granare diritto Però non so se serve a fare tutto casino Devi dimmelo tu Non penso Servo Anche perché tanto Se è dentro al negozio E' tutto sulla sinistra Che guarda il cadavere Io cambierei E te metto un secondo Ari cosa ha la stamina Vai vai Oh Occio che non lo lutta eh Ma da lì può andare dietro poi Se sta in questo negozio Lo vediamo Se va dietro oppure no Se va dietro Intendi di nuovo Verso Techlight No Dietro di noi Per farci No Cioè Dovrebbe vedere Tanto deve Per forza uscire da quel negozio Per poter farlo Ok ok Allora sta qui Questa la vince Chissà aspettare Ma sono entrati Tutti e due Qua sinistra Ti posso un attimo Braccia Mi sparo L'evo L'evo Prova Grazie a tutti. 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 Te mettiti a sinistra attaccato al muro e vai avanti in no sound. Ok. Ok. Avanza. Ok. E' sicuro che è pure lì qua a sinistra? Beh sì, non vedo altri punti. E' il grano dentro. No, te rimani lì. Io provo a correre indietro e vedere se mi sente. Ok. Ok. E' sicuro che cammini. Si. Si, ho fatto qualche passetto. Che cuffie hai? Le Razor. Ok. Cazzo. a destra, subito di corso. Eh, ma tanto ti spara, lui sta già... Esatto, esatto. Lui sta già in mio impuntamento secondo me. Allora. A meno che non è tornato indietro verso Teclight, lato scale sinistra, capito quale? Non lo so, perché io sto... Cioè, io lì ci guardavo comunque. Ah, ok. Si sarebbe passato, comunque avresti visto. Sì. Perché li ho visti entrare, li dovrei aver visto anche uscire, se... Però aspetta, sono rosso di stamina alle braccia. Vai, vai. Qua, sono quasi rosso pure io, però... P90 promosso appena i voti, eh. Se voi posso anche granare qua dentro, a questo punto. Se tu che cammini? Si. Siete dietro di me? Si. Yes. Provo a farmi sentire. A meno che non se ne è scappato, ma non credo. Che lascia l'amico così? Prova a lanciare una granata che rimbalza sulla colonnina accanto al cadavere. Proprio così? No, la colonnina quella dell'entrata. Ok. Non ho sentito correre, né camminare, né fare niente. Questo è subito a sinistra, secondo me entriamo subito a sinistra. Ah, ho capito quelle colonnina, dicevi. Aspetta. Ok. Prova a lanciare una granata, preparati se la lancio male. Vai. Arrotolato di merda tutta a destra, ne lancio un'altra. Vai. No, vai via, vai via ora. Corri, 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 corri. Che cazzo ha fatto sta granata? Vai, va bene, va bene. Dai, io direi a questo punto... Cacchiamoci all'addosso. Non so cosa proporre, credimi. Perché se questo ci sta aspettando tutto a sinistra può farne uno, ma il secondo lo dovrebbe uccidere. In teoria. Però, per cercare di essere salvi tutti e due... Bravo. Vai, continuo così. E' nessuno? Forse è morto. E' morto, è morto. Ok. E' morto. Aspetta. C'è qualcosa che non quadra. C'è lo so. Scusami? Come... L'ha ucciso uno scava, questo? Ah, mo, che c'è? Vabbè. Ok. Ciao. Quindi? Non lo so. Prendo la roba. C'era già morto da prima. Ok. Questo l'ho ucciso io. Vogliamo vedere se hanno aperto la farmacia. Mhm. Ma come faccio a far sendere il personaggio? Come fai? Ehi. Ah, sì. Io canale. Allora. Facciamo che avevo il trizip. Oh, aveva il trizip pieno. Madonna quanta roba. Dove cazzo ho preso tutta sta roba? Niente di che, però... Era pieno. Quello era proprio player? Quello l'ho ucciso io, sì. Ok. C'è un poche parole e abbiamo perso solo tempo. Eh, praticamente. Vabbè, vado a sapere, però. Poi mi riguardo la clip, perché a me era sembrato di vederne due. E... Boh. Forse era uno che su Techlight è tornato un attimino indietro ed è rifassato, però, boh. Strano. Molto. Io lascio un Tech-Tech se lo vuoi. Mmm... Ma è... Vabbiamo andare proprio a vedere, eh? Come era messa quella Tech-Tech? Benissimo. Beh, benissimissimo. Non mi ricordo, però di sicuro non mi ha ferito. Ah, aspetta, mi ha sparato quello prima con l'SVDS, quindi non ti so dire. Ah, ok, era la tua. Allora, lascio lì. Oh, ferro. Salendo le scale, qui. Ok. Fatto. Bravo, player. Un scav player. Ok. Occio, eh. Non ho attivato la corrente. Sembra. Sì, hanno aperto, porca troia. Perfetto. Vedete a prendere qualcosa, c'è qualcosino. Aspetta. Vieni qui, c'è qualcosina. Arriva, arriva. Mhm. Qualcosina, non mi fa calandromassa. Sei tu che stai ricaricando? Mhm. Ok, io dirillo. Dirillo un secondo. Grizzly. Per me, buonga andora. Ok, intanto mangio un attimino e bevo. Sì, cazzo, devo bere pure io, non ho acqua, porca troia. Ah, no, c'ho una red, c'ho una red, c'ho una red. Eh, io c'ho acqua e succo. Tieni. Tieni il succo. Grazie. Dobbiamo uscire alla nord. Do un occhio. Un grab libero. Vabbè, uno scav, povero. Niente, corriamo. Sì. Ah, fermo un attimo, scusami, fermo un attimo. Mi sparo un ibuprofene subito. Oddio, che incubo questi cosi. Sì, madonna. Ma il bello è che non li senti all'improvviso, non è che li senti piano piano. Oh, oh, scav di fronte. Player, non scavo. Mi ha fatto male, mi ha fatto male. Torno indietro. Non possiamo perdere tempo. Ma player o scav player? Player, player, sembrava player. Un attimo che mi devo curare, capri un secondo solo. Perché sto perdendo sangue. Vabbè, tanto puoi camminare mentre ti curi. Sì, sì, sì. Guardi qua a destra. Non è andato giù, io ho buttato un caricatore là addosso. Mi ha messo un braccio a zero col figlio di puttana. Andiamo se mi sono portato la droga per la stamina. Come si chiama? Oddio, non me lo ricordo, però è quella blu. Ma la costa 60.000. Prima non se la inculava nessuno. Io in parte la vendo sempre. Non sapevo che era droga per la stamina. Io ho paura di quella persona adesso. Ma vabbè, ma credo che comunque l'ho fatto molto male anche io. Dopo voglio vedere il danno che vi ho fatto. Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè. Non so se era un player o uno scout player, però. Il tempo era poco, quindi non penso che posso un player. Però cazzo, non è andato giù. Ma vabbè, come c'eravamo noi, poteva esserci un altro player. Ah, vabbè, sì, questo sì. Però, Dio santo, non è andato giù. Cioè, credimi, un caricatore di P90 tutto grosso, non è andato giù. Oh. Gigi. Gigi. Gigi.